Anzi, Fontana dice che non esistono le famiglie Arcobaleno. La mia famiglia esiste. Tutte le mattine, molto presto, come credo tante altre famiglie, facciamo colazione insieme. Tutte le mattine portiamo il bambino alla scuola materna. Tutti i pomeriggi lo vado a prendere. Giriamo per le strade. Siamo accolti in generale con tanta simpatia e tanto affetto. Il bambino è un bambino sereno. Da qualche mese io sono padre anche legalmente, perché abbiamo fatto domanda al Tribunale di Minorenni. Vi è stata un'istruttoria durata quasi un anno. Sono venuti gli assistenti sociali, gli psicologi a casa nostra. Hanno interrogato lungamente il bambino. Siamo stati interrogati più volte, ripetutamente, sia io che Ed. Alla fine si sono anche scusati con noi, perché ci hanno detto che siamo abituati a entrare in famiglie, famiglie tra virgolette apparentemente normali, in cui l'elemento fondamentale è la violenza e il degrado. Abbiamo dovuto investigare sulla vostra famiglia, abbiamo scoperto, un bambino che l'immagine del benessere, della felicità, della socievolezza, è una famiglia che lo accudisce con tanto amore.